La prima informazione allora non l'ho avuta dai miei genitori direttamente, assolutamente, perché loro hanno fatto sempre in modo comunque che Andrea fosse una persona fra virgolette normale come me, io sinceramente per me Andrea era normale, era diverso da me, ma non notavo questa disabilità assolutamente, anche perché dormivavo nella stessa camera, quindi proprio i gesti anche più intimi di chiamare la mamma di notte perché avevano bisogno o io o lui, il buongiorno, la buonanotte, andare a letto, svegliarsi alla mattina, comunque erano in comune e io non notavo assolutamente questa disabilità. Ho iniziato a notarla dalla gente e soprattutto dai miei amici, da quando ho iniziato a andare a scuola, mi ricordo benissimo che sai c'è un'età che inizi a invitare le tue amiche a casa, dopo scuola a fare i compiti oppure la tua festa di compleanno e quando venivano a casa mi ricordo che più di una volta trovavano una scusa e andavano via e io lì ho iniziato a chiedermi il perché, però devo dirti anche la verità, l'ho capito più avanti nel tempo, forse prima davo molto adito al fatto che veramente avessero un impegno improvviso e dopo invece ho capito che non era così. Io uscivo spesso con mio fratello e vedevo che la gente comunque si fermava a guardarlo, che lo guardava quasi impaurita, soprattutto gli adulti, non i bambini. Quando un bambino, anzi il bambino di solito vedo che è attirato dalla diversità, quindi se mai quando si avvicinava a mio fratello il genitore arrivava molto preoccupato di tirarlo via perché non si sapeva, comunque era una cosa strana quella cosa sulla sedia a rotelle che faceva dei gesti che facevano paura, quindi il genitore veniva e prendeva il bambino proprio di forza e vieni via, vieni via. E quindi l'ho scoperto dalla società. Quando è nata io, appunto avevo sei anni, non mi ricordo mai di essermi accorta inizialmente di Agnese con sindrome di Down, con qualcosa che non andava. Agnese per me è sempre stata mia sorella appunto, come tutte le altre sorelle. Non mi ricordo neanche sindrome di Down, mi hanno sempre accennato al fatto che dovevo stare più vicino, che avrebbe avuto bisogno di aiuto in più, ma io non me lo ricordo, sindrome di Down me lo ricordo da più grande, da bambina no. Dall'esterno persone che venivano a filmarla, a fotografarla e io mi chiedevo in realtà perché, cioè io no e lei sì, ma era sempre spiegato dal fatto ha bisogno di aiuto in più. Mi divertivo in realtà perché appunto filmavano poi anche a me, riguardavamo i filmati insieme, c'ero anch'io, quindi la facevo giocare, la facevo ridere, mi divertivo, ed ero anche un po' io protagonista perché poi in realtà quando è nata lei, non dico che sono stata messa da parte, no, perché assolutamente no, però chiaramente erano tutti concentrati più su di lei, ma mi hanno, io mi sono sempre sentita in realtà protagonista perché mi hanno sempre detto che io dovevo esserci e aveva bisogno di me e cioè senza ogni aiuto forse non sarebbe andata come è andata, non lo so, mi sono sempre sentita anche importante per questo. Ho l'impressione che non sono stati i miei genitori direttamente che me ne abbiano parlato e comunque pressa poco dopo la nascita, quindi quando insomma sì sì, allora non c'era una minocentesi, non c'era comunque possibilità di diagnosticare queste malattie genetiche precedentemente, quindi insomma dopo il parto, dopo qualche giorno la pediatra è un'amica di mia madre, insomma se ne è accorta, gliel'ha comunicato, quindi io ricordo che non ci sono stati direttamente i miei genitori a comunicarmi la cosa, però se devo dirti la verità potrei avere dei dubbi in merito, mi ricordo però il modo, era stato, insomma senza assolutamente nessun tipo di tragedia, si hanno parlato della problematica di Caterina paragonandola ad altre persone che avevano lo stesso problema e che insomma aveva avuto l'occasione di conoscere, era gente più grande, quindi mi ricordo guarda Caterina è nata con lo stesso problema di Alessandro, questo diciamo è stato il modo con cui è stata comunicata la cosa. Nell'altro caso di Maria invece, visto che comunque non si trattava di una problematica specifica, quindi di una diagnosi fatta alla nascita, ma è stata una concatenazione di eventi, mi ricordo quando in maniera improvvisa mia mamma ha dovuto partorire, Maria è nata, sapevamo che era nel reparto di neonatologia, in terapia intensiva, poi mano a mano imparavamo le notizie, quando mamma tornava a casa, perché chiaramente cercava di essere la impianta stabile, comunque ci comunicava giorno per giorno lo svolgersi delle cose per quello che comunque poteva anche essere di nostra competenza, io allora avevo 17-18 anni più o meno, quindi ci parlava, ci raccontava un po' di come stavano le cose, mi ricordo che c'erano questi momenti critici, non si sapeva se Maria sarebbe riuscita a superare quel determinato momento delicato, fino a quando Maria è arrivata a casa, ma quando Maria è arrivata a casa era una bambina assolutamente normale, un neonato, il ritardo si accumula nel tempo, quindi abbiamo scoperto piano piano delle sue problematiche, seri e gravi, perché comunque così sono, però quando era una bambina era una bambina molto bella, è una ragazzina molto bella tuttora, quindi era un neonato come gli altri, quindi il suo ritardo l'abbiamo imparato a conoscere piano piano nel tempo, perché comunque sono due difficoltà molto diverse. Io non mi ricordo, ero molto piccolo, 6 anni, che i genitori mi avessero spiegato guarda Francesca è down, la sindrome è down, è dovuta alla trisomia 21 e ha questa sintomatologia, no, questo discorso io sinceramente non me lo ricordo, però diciamo che se disabilità vuol dire in qualche modo diversità, vuol dire che ho particolarità, pensavo che questo era un discorso diciamo scontato con Francesca, essendo diciamo anche una delle disabilità più palesi, in cui tu appena vedi Francesca la comprendi, la capisci, la percepisci, non è una disabilità psichica, in cui fai più fatica ad entrare in contatto, e forse anche questo dovuto al fatto che in casa nostra era già frequentata da Claudio Imprudente, quindi il tema della diversità era già presente, e quindi è vero, non è una parola molto bella disabile, dunque avere un disabile in famiglia non era visto come una cosa particolare, e quindi è particolare e quindi degna di particolare attenzione. Ero molto emarginata anch'io a scuola, ero diventata emarginata, è vero, sì, non ne sono uscita, non ne sono uscita, ma io non so cosa sia giusto, cosa sia sbagliato e non me lo sono neanche posto, ho fatto quello che mi sono sentita e ho seguito comunque quello che era la mia persona, quello che era il mio dentro, sono entrata io nel suo mondo, sono entrata in un suo mondo, infatti mi ricordo che alla fine era diventato, che i miei amici erano diventati i suoi amici, anche se c'era una grande differenza di età. Io mi rendevo conto, soprattutto nell'età dell'adolescenza, che mi sentivo molto sola io, perché mamma doveva stare con Andrea tutto il giorno, soprattutto poi quando io studiavo, che era a scuola, Andrea faceva l'università e allora studiava filosofia, dopo infatti è stata la sua prima laurea e quindi tutti i pomeriggi mamma stava in salotto con Andrea, leggeva e Andrea mnemonicamente riceveva tutte le informazioni del libro e studiavano così, però Katia non c'era posto, molte volte per Katia non c'era posto e mi sentivo in effetti un po' sola, questo sì, questo sì e delle volte comunque c'è stato questo conflitto che dicevo che Andrea era un po' egoista, perché aveva avuto molto mamma per sé, però adesso per esempio che siamo adulti ne parliamo tutt'ora, ne parliamo tutt'ora e ne parliamo comunque con molta tranquillità, perché le cose erano quelle, non si potevano cambiare, questo non vuol dire che ovvio non mi sia mancata la figura materna, perché a quell'età lì quando si è bambini naturalmente c'è bisogno di una figura materna, di una figura paterna. Per papà era diverso, papà lavorava tantissimo, lavorava fuori Bologna, quindi arrivava la sera a tadella, mattina presto ripartiva, era mamma che non lavorando per stare dietro da Andrea, era in casa 24 ore su 24 con lui, per esempio quando uscivo da scuola che vedevo che tutti i genitori venivano a prendere i propri figli, io ero stata responsabilizzata molto presto, perché dovevo prendere la mia cartella in spalla e andare a casa da sola, stare attenta a come si attraversava la strada, tutto quanto per andare a casa da sola e quindi sicuramente ho sentito la mancanza della mamma. Con la nonna al piano di sopra, secondo me, poi magari era una mia sensazione, però per me secondo me non c'è più stata, per me c'era solo Agnese, io, cioè Agnese aveva bisogno appunto, però non era come i miei genitori, Agnese ha bisogno, dai aiutala e venivo coinvolta anch'io, invece la nonna secondo me, almeno io l'ho sentita molto questa cosa, poi non l'ho mai raccontata neanche ai miei genitori in realtà, però secondo me io per questa nonna, cioè io ormai ero grande quindi non avevo più bisogno tanto della nonna, insomma ne aveva bisogno lei, io ero un po' messa da parte, i miei genitori probabilmente sono stati bravi, io mi sono sempre sentita responsabile, il mio compito era starle vicino e aiutarla e io mi sono impegnata per questo. Io ho patito molto di più la nascita del mio fratello, il secondo Andrea, piuttosto che la nascita delle mie sorelle a livello di attenzione, anche perché quando è nata Caterina mia mamma ha fatto la scelta di rimanere a casa dal lavoro, non è stata sicuramente dettata soltanto da quella specifica situazione, credo che i fattori siano tanti, probabilmente non era neanche magari un lavoro che la gratificasse a tal punto da dire no aspetta proviamo a, quindi comunque sicuramente mia mamma è stata molto presente, quindi no a livello di attenzioni non l'ho sentito, per quello che riguarda Caterina almeno questa è la mia percezione, o meglio avevo già patito emotivamente magari gli altri fratelli che mi avevano tolto dall'esclusiva rispetto ai miei genitori. Maria è nata quando io ormai ero quasi maggiorenne, quindi a quel punto lì se l'attenzione dei miei genitori era meno assillante nei miei confronti, tanto l'hai guadagnato perché è un'età in cui non ne hai, anzi meno attenzione ti danno meglio stai perché sei proiettato verso altre cose, più verso il fuori, quindi non ho sentito particolarmente questa cosa, queste attenzioni in meno. Se ci sono state le ho accettate di buon grado mi viene da dire, nel senso che se ci sono stati magari momenti in cui dovessi aver notato qualcosa del genere non me lo sono stigmatizzato addosso, quindi se c'è stato l'ho accettato di buon grado perché comunque sono convinto che in quel momento lì meritassero più attenzioni loro che me. Mi ricordo che la prima volta che la vidi lei stava in una stanza ed era per terra, non gattonava, strisciava con le mani e aveva gli occhiali, no fu un incontro particolare assolutamente perché comunque tu incontri un fratello e subito sai che questa persona comunque entra in un'altra famiglia e ti accompagnerà. In rivista posteriori forse io ero molto, io fui molto titubante, cioè forse anche perché lei è femmina, io sono maschio e anche la sentivo un po' come un'intromissione, cioè un altro fratello nella nostra famiglia, ai tempi eravamo io e Silvia, eravamo in due, e poi dopo arrivo a Francesca, adesso siamo tre maschi e tre femmine, siamo tantissimi. E anche forse, anche successivamente rispetto ai rapporti che si sono creati, perché io forse sono quello all'interno del lungo familiare che forse ha la relazione meno intima con quella Francesca, invece Silvia ha il rapporto con il maggior feeling, forse questo succede un po' in tutte le famiglie, perché comunque nelle famiglie numerose tu non hai grandissimi rapporti, intimità con tutti i fratelli, con alcuni ci sono maggiori simpatie o affinità con altri meno, e questo forse un po' di più con Francesca, e questo può essere dovuto anche a una sua caratteristica, perché Francesca è una ragazza molto socievole, quando torna a casa e torna da lavorare, viene, mi saluta, ciao Pippo come stai, invece io sono un po' orso, e allora si Francesca vai via, non mi ne basta. Molta responsabilità, soprattutto, ma questa adesso ancora ne pago le conseguenze, perché io mi sento molto in colpa verso Andrea, qualsiasi cosa che io non riesco a fare mi colpevolizzo, ma perché io sapevo che comunque i miei genitori contavano su di me, anche in un futuro quando loro non ci sarebbero più stati, contavano su di me, perché io giustamente avevo le gambe, avevo le braccia e tutto quanto quello che non poteva avere Andrea, quindi contavano su di me per proteggerlo, e ogni cosa che non riesco a fare o che non sono riuscita a fare, insomma, me ne faccio molto carico. Ho perso dei ragazzi perché, vabbè, li considera che dopo è subentrata un'altra fase, perché mamma è morta, che io avevo appena compiuto 18 anni, poi si è malata, che ne avevo 16, quindi la mia vita, purtroppo l'adolescenza io ne ho avuto poche, non avevo amiche, non avevo amiche, non uscivo, io ero per Andrea, dovevo sempre guardare Andrea, poi allora lui quando è andato a vivere a Paderno, che comunque io ero ancora giovane, quando è andato a vivere a Paderno, è uscito di casa, avevo comunque mi sembra 17 anni quando lui è andato via, però c'era Andrea, quando si usciva, si usciva per andare da Andrea, e il primo ragazzino naturalmente non poteva accettare queste cose perché gli altri ragazzi andavano a loro in discoteca, andavano al cinema, andavano a mangiare una pizza, invece quando uscivo dovevo andare da Andrea. Era una cosa che mi era stata impostata, sicuramente non ho seguito la Katia, ho seguito quello che avrebbero voluto i miei genitori, per il bene di mio fratello, sono felicissima, tra virgolette, di averlo fatto. Con i ragazzi, i pochi che mi ho portato in casa, no perché c'era la paura prima, iniziale, oddio come si comporterà, c'era la paura sicuramente, come la prenderà il mio ragazzo, sapendo che io ho una sorella disabile, come la prenderà, però sono sempre stati tutti bravi, evidentemente, l'hanno sempre accettata così, e quindi una volta avviato, nel tipo dopo due o tre incontri, ok, la conoscono, sanno che è così, e quindi non mi ha mai più dato problemi. Io sono il suo fratellone maggiore, e quindi mi ascolta, mi ascolta parecchio, è bello, anche a me piace parlare, ogni tanto mi manda qualche messaggio, mi chiede qualche consiglio, gli capita magari che guarda qualche film, a lei piace il pallone, è un'appassionata di Totti, guarda qualche film, penso a Sognando Becca, mi chiede qualche consiglio, come posso diventare brava come lei, quindi sono il suo fratello maggiore, è un rapporto molto bello dialogico, con Maria invece è la situazione un pochettino più difficile, diciamo che il mio rapporto è un rapporto più di cura per certi aspetti quando c'è questo bisogno, intanto una premessa è duopo, nel senso che io non vivo più con loro completamente, quindi chiaramente ho la mia famiglia, quindi con Caterina Punti c'è questo rapporto fratello e sorella quando ci si ritrova assieme e con Maria, diciamo che questo rapporto di cura quando prima che mi nascessero i bimbi, una volta l'anno i miei genitori si prendevano, staccavano un pochettino la spina, andavano a farsi una vacanzina, mi chiedevano a me di tenere Maria, diciamo che in quelle due settimane, due o tre settimane d'estate avevo questo rapporto intenso con mia sorella, dal quale ne uscivo sfinito e dal quale mi accorgevo veramente che donna, che mia madre. Francesca non mi ha mai creato dei problemi con gli amici, mai un po' perché forse abito vivo in un contesto particolare che è questa comunità, la comunità maranatà e quindi un po' vivere all'interno della comunità maranatà, essendo che io vivo qua, è scontato che nella mia famiglia ci siano dei familiari particolari e poi anche perché forse io ho avuto una vita amicale che ha condiviso anche il mio vivere all'interno della comunità maranatà, di vivere all'interno della mia famiglia, quindi i miei amici venivano a trovarmi spesso, i miei amici si fermavano a guardare un film e i miei amici venivano a mangiare la pizza qua quando c'erano delle feste oppure per il mio compleanno e Francesca era presente e non mi ha mai creato un problema la presenza di Francesca, anche perché non si è mai creata una conflittualità, nel senso che io quando esco con i miei amici esco con i miei amici, non viene anche Francesca. Il futuro mi rendo conto che siamo talmente legati, soprattutto io, soprattutto io verso Andrea, siamo talmente legati, ho talmente questa morbosità verso mio fratello che il futuro non lo penso perché ho solo gran paura di perderlo, questa è la… e io mi rendo conto che spero di andarmene via prima io, lo dico sempre, ma se un giorno andrà via Andrea, la vedo molto grigia per me, molto, molto, molto. Il presente ti ripeto, la vivo con molti sensi di colpa, con molti sensi di colpa perché io faccio un lavoro impegnativo, lavoro veramente tanto perché vivendo da sola comunque io devo e più posso lavorare meglio è per guadagnare e dopo il tempo che ho dato a lui negli anni trascorsi sicuramente adesso non glielo sto dando, nel senso io con lui ci sono sempre, siamo ricoverati anche l'anno scorso, siamo stati due settimane a Milano, cioè qualsiasi cosa lui faccia a livello di salute ci voglio sempre essere, sempre ci sono, lo vado a trovare spesso, però sicuramente non più come prima, non più come prima. Il futuro mio, mio, me ne immagino in una casa in campagna, vorrei una casa in campagna, mio marito vorrebbe fare il contadino e pensando a mia sorella questo futuro cambia perché cioè oddio finché ci sono i miei genitori in salute speriamo fino a tanto, poi so che vogliono creare un ambiente particolare per lei e speriamo ci riescano, ci riescano, però se no sicuramente con noi perché di lasciarla completamente da sola non me la sento, cioè non me la sento, non voglio proprio magari in un appartamento vicino a noi, in una casina vicino a noi, con degli aiuti, non ce la vedo ancora, anche se i miei genitori vogliono prendere un appartamento per lei magari con aiuti di altro tipo, io non ce la vedo ancora, non riuscirei forse ancora a fare, so che è giusto così, ma probabilmente io non ci riuscirei, me la immagino in una casona grande con magari un pezzo di casa per loro, perché sicuramente sarà con Riccardo, non sarà solo con lei, Riccardo il suo amoroso, sono insieme da sette anni. Adesso ti dico che senza che loro ci abbiano assolutamente inculcato questo senso di cuore di protezione rispetto alle nostre sorelle, parlando con i fratelli che sono stati più forti, fortunati di loro, c'è un desiderio di cura. Rispetto a Francesca, sinceramente non ho una grande idea di che cosa farà lei da grande e soprattutto come saremo noi. Forse il fatto che noi siamo in tanti, in famiglia, questo sicuramente facilita la cosa, che essendo in tanti non è che io come singolo mi debba preoccupare del suo futuro, di quello che farà lei da grande, oppure come me la sento sulle spalle assolutamente. Se io non la accoglierò in casa mia, quando sarò sposato, lei sarà sotto un ponte. No, non penso a questo. Penso che saranno dei rapporti che si creeranno nel tempo, delle opportunità, in base a come ti strutturi come famiglia, in base anche all'ambiente che frequenti, in base anche a lei, come crescerà, non so un domani cosa farà Francesca, un domani Francesca potrebbe anche abitare da sola in un gruppo appartamento, magari ci vediamo tutte le domeniche per mangiare assieme, oppure in fra settimane, però abiterà in un'altra parte, oppure abiterà vicino a me. Lui ha avuto un'influenza, ma io non farei assolutamente a meno di lui. Io veramente penso di aver passato dei momenti molto difficili, però io rifarei tutto completamente, completamente, completamente. Se mi dicessero vuoi un fratello, fra virgolette, normale, perché bisogna poi vedere la parola normalità dove sta di casa, direi di sì per lui, ma direi di no per me. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Talk to me.